Una delle cose che apprezzo di più di questo casco, che è uguale a quello che usiamo noi in pista, la GV Pista GPRR, che uso ormai da due anni. Una delle cose che apprezzo di più di questo casco, a parte la vestibilità che è molto comodo e comunque la protezione che è di livello veramente alto, ma la cosa che da pilota apprezzo veramente di più è il campo visivo. Essendo io un pilota che guida molto con la testa bassa, apprezzo tantissimo lo spazio di visibilità che hai nella parte alta del casco e poi l'aerodinamica. L'aerodinamica è veramente una cosa incredibile perché sembra a volte di non avere il casco, di essere senza casco e sicuramente la leggerezza. Questo casco è veramente molto leggero, come allo stesso tempo molto protettivo, quindi è un compromesso che per noi piloti è molto importante.